Sì, dovevamo portarlo in un teatro, l'abbiamo provato in cucina. Faccio? Cos'è che hai scritto? Una commedia. Cinque torri e un'attrice. E quant'è che gelato fa? Non mi hanno ancora preso. Mi hanno... Non vuoi dire cosa ti hanno detto? Di restare a Roma, che mi avrebbero fatto un altro provino nei prossimi giorni. Mettila sveglia, perché domani mattina dobbiamo andare a pagare la bolletta. Sì, ci andate voi? Sì, sono andati a casa tutti con quella Angela. È simpatica, è carina, è solare, ma noi non la conosciamo bene. Sono stufo, sono stufo! Mi sono rotto i coglioni di raccogliere la mia testa. È difficile? Lo so, facciamoci coraggio. Ma perché cazzo devo dire alla gente che è difficile fare gli attori? Però è bello, ne vale la pena! Bisogna resistere! Ma l'hai visto come ci trattano? Ed è proprio per questo che noi dobbiamo dare una svolta. Come? Noi? Noi! Lavorando insieme! No, la voglio in tono più aristocratica. Si tratta di lasciare il teatro? No? Aspetta! Quello è il meno! Eh certo! Basta che nessuno venga a rompere i coglioni! È vero! Senti! Io non ho voglia di litigare! Che vita di merda! ketchup parvo! Che vita della mia testa è grande! Che cambio la mia testa è normale… Cheva.